We got power, Dragon Ball Z! Poi durò 10 giorni, 2 settimane massimo, la gente della terra poteva tornare a un'esistenza pacifica, tuttavia quando ci si abitua a vivere in pace si tende a darla per scontata, gli esseri umani sono fatti così, e ci mancherebbe pure, specialmente sto periodo. Insomma qui come sempre abbiamo qualche flash forward di quello che accadrà, e di nuovo un nemico ovviamente. Majin Buu è rinato. Come se noi dovessimo sapere che prima già c'era. Non viene mai menzionato quindi. Sono passati quasi 7 anni dalla battaglia contro Cell. Questa tranquilla cittadina si chiama Satan City. E' qui che abita Mr. Satan, che tutti ritengono il salvatore della terra. La città fu ribattezzata proprio in virtù delle sue geste eroiche. Gohan ha compiuto 16 anni. Dove vive non ci sono scuole, quindi finora ha sempre studiato a casa grazie alle corsi per corrispondenza. Perché la tecnologia è talmente avanzata che non gli permettono di fare dei corsi online. Ma la tecnologia in Dragon Ball è stupefacentemente avanzata quindi. Però sua madre ci ha deciso di mandarlo a studiare al liceo di Satan City, vabbè è ovvio. A Satan City c'erano molti criminali e Gohan si imbatteva a loro mentre andava a scuola. Ah, e li combatteva trasformato in Super Saiyan, certo. Ecco, lei invece è una sua compagnia di scuola. Il guerriero dorato. Chi sarà mai? Che to' frega! Da Super Saiyan a supereroe. Ma ne vedremo delle belle ora. Certo, lei ovviamente è la paladina di Satan City. Insomma, si chiede chi potrebbe essere quell'eroe che fa il lavoro al posto suo. Ovviamente io corro velocissimo in mezzo alla gente perché chi se ne frega, no? Super salto! Non posso neanche volare. Questa è roba di prima scelta! Ho raccolto una mela, non so cosa ho raccolto, però... Un testo così molto generico. Sono trascorsi sette anni dallo scontro con Cell. Gohan ha determinato a realizzare il suo sogno di diventare un grande ricercatore e si scrive al liceo di Satan City, Orange Star, per proseguire i suoi studi. Irasa! Si chiamava Irasa, non lo sapevo. O non mi ricordavo perché non mi sembra che se non mi venga poi veramente mai detto. Ah, sei il nuovo studente Gohan, giusto? Io sono Irasa. Lei è Videl? Videl è la figlia del leggendario Mr. Satan. Si. Si, molto sorpreso. Oggi si è arrivato in ritardo. Anche voi siete anche qui in piedi, quindi non capisco. Si, il guerriero dorato è top. Videl è la lobby di fare l'eroina della giustizia. È logico, in fondo è sempre la figlia di Mr. Satan. Sì, perché prima non lo era, sempre. A volte persino la polizia le chiede aiuto. Oh, non mi dire! Tu hai più o meno la stessa corporatora di quel guerriero dorato. In effetti Gohan comunque si è tenuto in allenamento, perché se guardate bene ha sempre i muscoli. Perché se uno non si allena a tempo 4-5 mesi i muscoli tornano flaccidi come erano prima. Chiederà consiglio a Burma. Lui è Sharpener, lui è un temperino. Va bene. O ha ciarrino. Oggi in giocazione fisica giocheremo a baseball. Sarà una buona occasione per scoprire cosa sa fare. I miei lanci sono devastanti. Dovrò a trattenere al massimo la forza. Ok, eccoci qui. Vediamo che farei contro il mio lancio full mio. Devo fare piano. E tieni la mazza con la mano destra. Però vabbè, sta messo malissimo. Cioè, lui sta con la destra. Se tu tieni la mazza così, devi metterti di qua. A sinistra. E non a destra, perché stai messo malissimo. Mostra la tua abilità in battuta e scaglia la palla. Ok. Basta che ecco un cerchio, perché se poi mi cambia il tasto all'ultimo. Palla dritta. 19 chilometri. Wow. Hai ribattuto il mio lancio? Eh sì, è quello che si fa nel baseball. Deve essere stata la tua postura pessima. Ma proprio perché la postura è pessima che non ce la fa. Ha qualcosa che non mi convince, certo. Ma è così a caso, ha delle intuizioni pazzesche. Ma è la figlia di Mr. Satan. Certo, Bulma anche quando lavora ha proprio un vestitino sobrio, eh. Da lavoro. Ah, di che si tratta Gohan? Di cosa vuoi parlarmi? Ho uno stratagemma per non... Uno stratagemma per non far scoprire la tua identità. Hai qualche idea? Certo che sì. Sono o non sono un genio? Eh, vestita così non si direbbe. Nessun problema. Ci vorrà un po' di tempo, quindi dovrei aspettare. Dov'è Trunks? Non mi vado a aspettare senza fare nulla. Vincita dell'isteranda delle lezioni. Vuole che Trunks diventi più forte di te. Beh, è difficile. Se Gohan non si allenasse più potrebbe anche diventarlo. Però, visto che dopo ripresa ad allenarsi, anzi, sul manga di Dragon Ball Super è riuscito a sbloccare la sua forma suprema. Quella che aveva acquisito con Kaioshini Sommo. Tu padre sta andando delle lezioni. Ha promesso che se riusciva a colpirlo avrebbe portato a Luna Park. Allora metticela tutta. Farei in modo che papà mantenga la sua promessa. Ok, forse ora ci faranno combattere anche contro... Contro Anx e contro Vegeta. Sarebbe interessante. Si vede che non ti allinei da molto tempo. Anche se la pace durerà, non devi trascurare gli allenamenti. A parte che poi Gohan comunque sia un Saiyan, quindi ha un metabolismo molto particolare. A proposito, ho saputo che stai allenando Trunks. Ormai è abbastanza grande per affrontare dei veri combattimenti. Finirà per superarti se non ti dà una mossa. Ce lo porterà se non riuscirà a colpirmi a Luna Park. Porro Trunks. Ok, e quindi ora... Tira a Bulma se il tuo costume è pronto. Ah, il tuo costume è pronto o no? Su! Io vado di fretta, vado. Anche Trunks vuole un costume. Ma, dici? Incredibile, è perfetto. Vero? Grazie a tutti, Bulma, lo sarò immediatamente. Non lo vuole più. Però sarebbe bello comunque sia senza mantello e senza casco. Sarebbe molto più carino. Perfetto, a questo punto dovremmo andare a scuola. Sta attento agli aerei. In effetti, a parte che non è che vola a 10.000 metri di altezza. Su! Già, a 1.000 metri già non si vede più la persona. Cioè, nel caso dovesse volare a 1.000 metri di altezza, una persona non si vedrebbe già più. Questo è Goten, è nato dopo la sconfitta di Cell. Ovviamente è fratello di Gohan, certo. Posso volare senza problemi col costume di Great Saiyaman e in più posso tenere d'occhio i criminali. Ok, allora, aggiungi... Battuglia alle strade di Satan City? Ok, ci siamo. Chissà che succede in città. Cosa succede in città? Un'altra rapina? Dovrebbe esserci anche Krillin, comunque sia. Cosa succede in città? Un'altra rapina? C'è stato fatto un po' di due giorni. C'è un po' difficile. Non si può fare un po' di più. Allora, Veedle, proviamo a prendere loro. Mi ha conosciuto il mio nome. C'è sicuramente. a l'anboyabo che ci lui mi lasciano sandera da le hacho tolgo uova indETRO Wow, è stato piuttosto rapido Che ne facciamo di loro? Devi portare la polizia a Videl? Lasciamoli qui Chiamerò gli agenti per venire a prenderli Sei fortissimo Naturalmente la tua identità è un segreto, giusto? Eh, esatto, sì sì Ma Gohan, così non arriverai tardi a scuola? Esatto, quindi devo sbrigarmi Lo sapevo Tu sei Gohan, il nuovo strumento della mia classe, non è così? Accidenti, mi hai scoperto Come hai fatto a capirlo? Crede che fosse un travestimento perfetto La voce Hai un tono un po' particolare Madonna, si ha un tono particolare E poi conoscevi il mio nome Eh, giusto Come hai fatto un po' particolare Come hai fatto un po' particolare Come hai fatto un po' particolare E poi, 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 come hai fatto un po' particolare Solo tu Solo lui Ok, intanto lei va a scuola Se io ti raggiungo a breve Cavolo, non pensavo di venire smascherato così in fretta Come farò per la storia del torno mondiale Chiedo le consiglio a Bulma Ma perché Bulma che ha un oracolo? Che cos'è? A dire vero, forse dovrei Cercare qualche medaglia D Per potenziare alcuni parametri dei personaggi Che appunto Possono essere sbloccati Solo facendo l'allenamento al campo Però vabbè, non è molto importante Alla fine, quello che conta davvero È il livello del personaggio Che più hai un livello alto Più mazzate puoi dare Eccoci qua Oh, ma Lance Tutto bene, Lance? E tu chi sei? Sono io, Gohan Ah, Gohan Non ci vediamo da anni Come va? Perché indossi quel costume? È difficile da spiegare Comunque sia, diciamo che sono un paradino della giustizia Tu invece che ci fai qui? Ho un piccolo problema Pensavo di chiedere aiuto a Bulma Ma non è in casa Non so se aspettare che torni o meno Magari potrei aiutarti io No Magari no Tenshinhan mi ha chiesto di badare sui campi Mentre è in viaggio per allenarsi Ma poi sono arrivati dei mostri Che hanno attaccato il vicino villaggio Ok, insomma, devo sconfiggere quei mostri Ah, livello 59 i Cybermen Ma i Cybermen ancora qui stanno? Oh, adesso ci siamo Parteciperai al prossimo torneo mondiale? Come mai? Perché tra i miei compagni di classe C'è la figlia di Mr. Satan Ma non è quell'incapace Che ha fatto una figuraccia contro Cell Ha una figlia ed è in classe con te Sì, ma è una brava ragazza Come me anche lei non sopporta i criminali Purtroppo mi ha scoperto per vedere la mia voce Mi ha detto che se non partecipo al torneo Rivederà la mia identità Che imbranato Allora voglio che modifichi il tuo casco In modo che possa camuffare la tua voce No A torneo non mi sarà permesso di indossare Alcun tipo di protezione Quindi mi serve qualcosa Che sostituisca il mio casco Basta che nessuno scopra La tua vera identità, no? Eh sì, però Uh, degli occhiali Benissimo Non credevo che fosse così facile Da risolvere Che mi dici, Trunks? Mi torna molto, non è vero? No, commento Però non credo che ti divertirei molto Anche se ti trattieni Sono sicura che vincerei facilmente Non sarà così facile Bajito? Se tu partecipa al torneo Allora lo farò anch'io Ovvio Tempo fa tra noi c'era una gran differenza di forza Ma ora come sarà? Mentre tu, Ziave, ti guardavi la pace Io ho continuato ad allenarmi Infatti E non hai lavorato neanche un giorno Proprio come il tuo padre Saiyan sono una razza di pannulloni Ok Uyla È la voce di mio padre, certo È lui o non è lui? Sta abbastanza bene Per uno che è morto Fa le battute come Brook di One Piece Parteciperete davvero e torniamo a mondiale? La vecchia baba mi permette di tornare per un giorno intero Ecco, se partecipano Goku e Vegeta Mi pare chiaro chi arriva in finale Ti aspetterò con gioia Certo, perché secondo Vegeta Goku non si è allenato, no? Perfetto Budokai Tenkaichi Non dovesse andare ad avvisare gli altri Cioè prima di andare dalla famiglia arriva da Krilin Sì, intanto ha formato una famiglia con Ciriciotto E ha anche una figlia Parliamo di 10 milioni di zeni per il vincitore 5 per il secondo e 3 per il terzo 2 per il quarto e un milione per il quinto In effetti anche chi arriva a quinto ha un milione di zeni Non è mica schifo Ma i papà si impegneranno per vincere un sacco di soldi In effetti con 10 milioni di zeni tra primo e secondo posto Non dirlo a piccolo, altrimenti non riuscirai ad arrivare nemmeno al quinto posto A proposito, perché sei vestito in quel modo ridicolo? Ma che dici, sto benissimo? Di moda non capisce niente Krilin Ovviamente Gohan deve dirlo anche a piccolo Oh, intanto Rende in 7 anni è cresciuto Ho capito, mi sembra molto interessante Vero? Bene, ci verrò anch'io E tu Rende? No, io passo, non sono un guerriero A proposito, perché quegli strani vestiti? Anche tu piccolo, non pensi che mi stiano bene? Non chiede alla persona sbagliata Bene Ovviamente per ultimo lascia la madre e il fratello Bravo Gohan tornerà dall'altro mondo per partecipare al torneo mondiale Non è che torna per vedere la moglie e i figli No, per partecipare al torneo mondiale Gohan contro di me non sarà invecchiato per niente Nell'altro mondo nessuno invecchia, vero? Mamma, potrei partecipare anche al torneo? Il vincitore avrà un premio di 10 milioni di zeni E il secondo 5 Ecco, anche la già non ha capito più nulla Tu e Goku insieme potreste vincere i premi per 15 milioni Ma non ha detto che vinceremo Ma che dici, vincerete di sicuro? Lei ovviamente, certo Goten migliorresti una mano con l'allenamento? Certo Anche Goten è diventato un teppista? I capelli biondi Iniziamo, va Vai Fatti sotto Posso trasformarmi anche Ovviamente anche lui si vuole trasformare, no? Vuoi diventare un Super Saiyan? Credo che sia ancora un po' presto per te Goten E invece Beh Ma forse è meglio così, sarà un allenamento ancora più fruttuoso Bene, iniziamo, va Ok, ma dai Ma lo faccio a pezzi Posso anche diventare Super Saiyan 2? Ma In teoria Goten non potrebbe Però Goten adulto, intendo Ma dove? Come ha volato qua sopra? Come ci è arrivato? Goten Super Saiyan 2 Diciamo che ha perso la maniera di trasformarsi Senza un valido motivo Non gli sto facendo nulla, eh Per carità Però, cavoli Almeno stordito Si è rammollito, Gohan, eh Madonna, no Tre stordimenti mi ci sono voluti, eh E ancora non basta Andato Mamma mia, ragazzi È tosto, eh Ah, ecco perché tutti quanti questi punti esperienza Ci sta il motivo, allora Eh, eh Ci sta il motivo Ottimo lavoro, ma Ci direi che è un ottimo lavoro Si può trasformare anche Trunks Per oggi comunque sia fine all'allenamento E Anche Pidella arriva qua Sei sicuro di non essere qui perché mi eri su mio figlio? Ha solo 16 anni Non ha ancora Voglio di sposarsi, credo È scoperto anche dove abito piuttosto facilmente È bastato guardare l'elenco studentesco Allora, anno mia Avevi promesso di insegnarmi a volare? Sì, certo Te lo insegnerò Vedi di stare lontano dal mio figlio, chiaro Non si deve preoccupare di questo Proprio per niente Vabbè, sì, insomma Vai, su Stai galleggiando Nessuno ha mai raggiunto questo livello in un solo giorno Dici davvero? Il tuo fratellino sta svolazzando come un uccello E ha iniziato insieme a me Ma Goten sapeva già controllare la sua energia Fin dall'inizio Ora che anche tu hai capito come fare È solo questione di tempo Allora verrò anche domani Voglio sapere di più su questa aura Ti dà fastidio? Un po' Ma allora domani Un'ultima cosa Si tratta dei tuoi capelli Secondo me dovresti tagliarli A te piacciono di più i capelli corti? Tonto! Ma credo sia più pratico per combattere Tale padre, tale figlio Perché si è arrabbiato a quel modo? Non ne ho idea Tale padre, tale figlio Il giorno dopo Ne calla Ricominciamo da dove abbiamo interrotto ieri Questa ragazza non la capisco proprio Wow Appetito 15 Sulla comunità de... Del cibo 15 È un personaggio piuttosto interessante allora Videl costringe Gona a partecipare al torno mondiale Poco dopo il ragazzo apprende che anche suo padre Vi prenderà parte Tornando dall'altro mondo per un giorno Alla grande Oh sì Trunks e Vegeta che si preparano Non sforzarti troppo Trunks ci dà la stanza Sì una gravità superiore a 150 volte è normale Non è per lui Mi trasformo in Super Saiyan E vai Proprio come i funghi eh Ma da quanto? Sto sognando Non si può diventare Super Saiyan così facilmente Anche il fratello di Gohan può diventare Super Saiyan? Sì? C'è stata una svendita di Super Saiyan Beh Dobbate stare attenti voi Quando copulate Evitate di essere Super Saiyan No? Oppure anche perché Come quello che disse una volta Radish se non sbaglio Che L'ibrido Umano Saiyan Fosse più forte Di un Saiyan puro O comunque sia Toriyama ha cambiato la storia Perché l'editor Gli imponeva così Ha imparato a volare in solo 10 giorni Ora finalmente potranno usare da denarmi come si deve con Goten Ormai non manca molto al giorno del torneo Quando papà ci raggiungerà E va bene Finisce anche questo capitolo Gohan vs Goten è l'unico Oh sì In teoria sì Perché io avrei anche giocato prima Per appunto Fare una cosa un pochino più veloce Per ricominciare appunto dalla storia di Gohan Che appunto va a scuola Però vabbè Prima ci sarebbe stato il combattimento anche contro Vegeta Ma non me l'ha contato lo stesso Vabbè Non fa nulla All'ogni modo inizia questa nuova fase di Dragon Ball Z Kakarot Appunto come dissi Porterò il gameplay solo Una domenica Quindi un solo giorno a settimana Perché vabbè Non è Un gioco più Molto seguito Ma Adesso voglio lasciare spazio ad altri All'ogni modo Kuj Per questo video è tutto Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo in descrizione il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye Ciao Ciao Buongiorno Grazie.